allora saturno in bilancia ci ricollega con la ferita da ingiustizia e quindi vuol dire che chi ha saturno in bilancia è portatore sano di qualcosa di carmico che deriva appunto dagli avi o dalle vite passate o da tutte e due che riguarda qualche ingiustizia che è stata data quindi si può appartenere a una famiglia che è stata favorita in qualche situazione magari in un discorso ereditario rispetto ad altri fratelli dei nonni o dei bisnonni o dei tre nonni oppure anche favorita in sede giudiziale per qualsiasi tipo di contenzioso se si fosse creato oppure favorita dal destino nel senso che erano favoriti perché erano molto più ricchi o molto più benestanti di altri o molto più felici perché avevano fatto ricevuto qualcosa spesso intendiamo in senso materiale di di più degli altri e quindi in qualche modo deve ripagare questo tipo di situazione quindi si ritroverà in una posizione di dare moltissima attenzione alla giustizia quindi difendere la giustizia spada tratta ma nello stesso tempo avrà la sensazione che non esiste giustizia a questo mondo perché saturno appunto nega quella funzione nega la funzione giustizia dal punto di vista del carattere la persona si sentirà piuttosto piuttosto irrigidita non accetterà molto i pareri degli altri proprio perché la bilancia il segno delle relazioni e quindi nel momento in cui c'è saturno è come se negasse la fluidità nelle relazioni irrigidisce rende persone che vogliono un po' le cose fatte come dicono loro magari anche in una maniera un po' impositiva e quindi con poco successo nei confronti dell'altro tra l'altro la bilancia governata da venere che è il pianeta che può rappresentare in qualche modo la funzione relazionale con le altre persone rappresenta sì l'amore per noi stessi ma anche la nostra capacità di esprimere questo amore verso all'esterno e quindi in qualche modo il saturno se è vissuto negativamente c'è un livello di consapevolezza bassa può dare la tendenza a magari voler rispettare le regole ma in qualche modo a non essere capace poi di essere veramente giusto e quindi a creare quelle situazioni ambigue per cui poi si viene accusati di essere ingiusti anche nonostante tutti gli sforzi fatti e chiaramente il fatto che saturno blocchi questa funzione blocchi e crei questo tipo di ferita fa sì che la persona abbia un po il timore di apparire molto freddo verso gli altri perché sentirà proprio una mancanza di empatia viene mancare un po l'empatia perché la bilancia un segno d'aria però la funzione di saturno che tra l'altro si esalta in bilancia quindi non è poi che ci stia male lì saturno non si esprime malamente ma proprio perché si associa un segno che pur essendo un segno d'aria è compatibile con saturno tira fuori questa questa diciamo la loro comunanza tra saturno e la bilancia è quella proprio di innescare delle rigidità delle freddezze degli automatismi e voler fare regole quindi dei meccanicismi e quindi trascurare un pochino quello che può essere invece l'aspetto più empatico e quindi l'aria non è empatica e saturno neanche quindi chiaramente vanno d'accordo anche proprio perché c'è un po di mancanza di empatia non è un segno d'acqua è l'acqua è l'acqua che rappresenta maggiormente l'empatia infatti saturno nei segni d'acqua non ci sta benissimo e quindi diciamo che questo saturno in bilancia per quando evolve invece consente poi di creare delle abilità perché poi saturno diventa un talento a furia di lavorarci di se uno si impegna seriamente e chiaramente i talenti che possono venire fuori sono i talenti tipici del segno della bilancia possono essere talento verso l'estetica verso l'equilibrio verso la regolamentazione quindi il fare leggi e tutto ciò che che può essere associato al segno della bilancia l'armonia la anche l'eleganza diciamo però che per arrivare a questo tipo di evoluzione il percorso è proprio quello di andare oltre le posizioni rigide e ritornare a dare più peso alla bilancia che a saturno nel senso che saturno invece di diventare un bloccato un elemento bloccante la relazione può diventare un elemento che invece ne favorisce le struttura i meccanismi e quindi può creare poi anche delle relazioni gioiose se c'è un lavoro come dicevamo profondo questo